Messaggio intimidatorio al commissario del comune di Licata, nominata dopo la sfiducia al sindaco anti-abusivismo Angelo Cambiano. Ristiati a toccare le nostre case, sei morta, ti sgozziamo viva, fai una sola cosa contro di noi e ti scanniamo, ti seguiamo e ti controlliamo a vista. È l'inizio di un messaggio intimidatorio che si chiude con la foto di una cassa da morto vuota, arrivato a Maria Grazia Brandara, 61 anni, commissario straordinario a Licata. Rivendico il sentimento della paura, cosa che non mi era mai capitato in tanti anni di attività politico-amministrativa. Tutti sapete quante intimidazioni ho subito in questi anni, ma non ho mai avuto paura, stavolta sì. Non ho ancora deciso se continuare a rimanere alla guida del comune di Licata o se mollare. Sono le prime parole del commissario straordinario Maria Grazia Brandara dopo la lettera di minacce che le è pervenuta nelle scorse ore. Brandara, che ha denunciato l'intimidazione, aveva guidato il comune di Licata sempre da commissario dal dicembre 2014 al giugno 2015. Era stata la Brandara da commissario a stanziare i fondi per le demolizioni delle case abusive. Il sindaco Cambiano voleva attuare i decreti di demolizione, ma ha sollevato l'ira di migliaia di suoi concittadini e ha subito minacce. Brandara, ex democristiana, eletta all'Ars con la Casa delle Libertà, adesso vicina al governatore Rosario Crocetta, impiegata dell'Agenzia delle Entrate a Catania, è stata anche consigliere provinciale e sindaco di Naro. Sappiamo dove abiti a Palermo, in via Puntini Puntini, e dove abiti a Naro, grandissima Puntini Puntini. Tornate nel tuo paese, scappa fino a che sei in tempo, quando meno te l'aspetti, ti spariamo. La cassa è già pronta. Nel luglio 2016, nella sua carica di commissario straordinario dell'IRSAP, aveva ricevuto un altro messaggio intimidatorio, con allegate due cartucce di fucile. Sulla vicenda, i magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento, con in testa il procuratore capo Luigi Patronaggio, hanno aperto un'inchiesta.